Hai con te una canoa o credi che i tuoi modi gentili allontanino gli alligatori? Prendine una delle mie e impara a usarla in fretta. Contrabbandire. Che brutta parola. Se gli schiavisti sono dei mercanti, perché io non posso essere regina delle puzze, patrona degli innocenti, somma venditrice e gran commerciante? Troppo lungo per i cacciatori d'Italia. Quando sono iniziati i guai con gli uomini di Macandale? Circa all'arrivo del governatore spagnolo. Una strana coincidenza, direi. L'acqua non può condurci oltre. Hanno il covo accanto a una nave affondata in una secca qui vicino. L'altro covo è un po' più lontano. Là. Io controllo questo covo. Tu va avanti. Signor sì, capitano. Meno male che non ho scommesso. Avrei perso. Non hai nemmeno un graffio. Ed ecco il tuo premio. Uovo di alligatore. Prendilo. Te lo sei meritato. Aveline. La signora dei rettili. Ho una buona maestra. Già, proprio così. Bene allora. Se non fai fuori quel bastardo in questo covo, ci vediamo al prossimo. Stato. Già, quello è vero? Chià? 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 Ah Mio fidato seguace Il giorno della sacra cerimonia è vicino Io desidero che altri uomini si uniscano al nostro gruppo Raduna i fedeli e attendi i miei ordini Ancora tutta intera, vedo Cos'hai trovato? Una lettera di quel vile Macandal Sta preparando una cerimonia Voodoo? Sì, ma a quale scopo? Potere? Che altro se no? Mostra che hai gli spiriti al tuo fianco Specie quelli cattivi E la gente farà ciò che le ordini Ecco la vera magia È di là Nel fitto degli alberi Ferma Conosco questi uomini Sono schiavi in fuga Vengono da Saint-Danger L'ammasso di baracche? Sì Non si può che chiamarlo così Un posto orrendo, miserabile Gli uomini al tuo campo Venivano da Saint-Danger Sì Rossillon non voleva che li reclutassi Ma ormai si è abituato Ti prego Non fargli del male C'è bisogno di dirlo Buona fortuna Vai Mi trovi in ufficio se mi vuoi Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi ho fidato seguace. I preparativi sono completati. La cerimonia avrà luogo alla vigilia di San Giovanni. Raduna i miei fedeli. Grazie a tutti. Ha le palle d'acciaio! Ebbene... Dov'è, Elise? La mia compagnia non ti basta. Oh, mi ferisci! Avanti, dimmi cosa hai scoperto. Sono degno di fiducia quanto la signora, lo giuro. Non mi serve un confidente, ma un informatore. Ma Candalter ha una cerimonia alla vigilia di San Giovanni stasera, ma non so dove. So chi può aiutarti, ma tu aiuterai me in cambio. C'è un... Oh... Oung... Uno stregone a Saint-Dangé. È occhi e orecchie della paludè. Elise gli sta portando delle cose, ma ha scordato questo. È difficile trovare un criminale onesto di questi tempi. Portaglielo. Se si fiderà, la paludè non avrà segreti per te. Grazie. A proposito, torna quando hai finito. Avrei un paio di lavoretti per una donna del tuo calibro. E anche del lavoro vero. Eh?